Buongiorno a tutti voi, questa è Fano TV, la sua rassegna stampa che apre la mattinata e l'appuntamento con l'informazione sul nostro canale, canale 17, sono le 7.30, puntualmente noi siamo qui, abbiamo già preparato tutti i giornali sullo touchscreen, però procediamo con ordine, come sempre facciamo, guardiamo le previsioni del tempo e poi naturalmente il santo del giorno, il santo del giorno e le previsioni del tempo, adesso partiamo prima con il santo del giorno, San Filippo Neri, sacerdote, oggi è giovedì 26 maggio, il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.39. Allora, guardiamo subito che cosa ci rimanda come dati la nostra centralina, sono appunto da poco passate le 7.30 e ci sono già 17 gradi e passa quasi 18 con bassissima umidità, quindi si preannuncia una giornata di bel tempo, vediamo che cosa invece la webcam carpisce, un cielo terzo, qualche scia di aeroplano, ma però vedete colori molto belli e insomma sole pieno. Vediamo le previsioni del tempo, come sarà l'evoluzione per le prossime ore, le prossime giornate con la protezione civile delle marche, oggi insomma vedete sereno con transito di velature, precipitazioni assenti e temperature anche queste in aumento, domani venerdì sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti e lieve aumento delle temperature, quindi esattamente come oggi per sabato, il primo giorno del fine settimana, anche qui compaiono un po' di velature nel pomeriggio, nella seconda parte della giornata, però per lo più sereno per il resto della giornata, senza precipitazioni e anche qui le temperature sono in aumento, quindi insomma almeno sulla carta si prospetta un fine settimana di bel tempo e insomma tutte le attività e tutte le cose che sono in essere per questo fine settimana, soprattutto quelle all'aperto, potranno godere insomma dei benefici del bel tempo. Nelle pagine dei giornali troviamo un articolo, che è insomma il fil rouge di tutti, lo vediamo subito e poi tante notizie, abbiamo preparato diverse cose, guardiamola subito, eccola qui, la notizia, bancarotta arrestato Stefano Cordella, questa è la notizia che troviamo in tutti i quotidiani, anche in cronaca nazionale, il noto imprenditore avrebbe sottratto 6,3 milioni da anteprima gruppo e anteprima web, ci sono anche 16 indagati. Poi in testa di pagina del resto del Corriere Adriatico di Fano, ecco, ripercorso tutte le sue società, le attività, pubblicità, energie, spiagge, sport, ecco tutti gli interessi, input partiti anche da ex dipendente, l'input per le indagini, che imbrattò muri e pareti, e parenti di prestanome morto investiti dai debiti. Prestanome morto investiti dai debiti, questo è il titolo del Corriere Adriatico, vedete anche qui nell'articolo di Lorenzo Furlani, gli accertamenti della finanza scaturiti appunto dai fallimenti delle due società, una rete di 18 aziende, scantate 20 perquisizioni a Fano, Sant'Angelo, Invado, Senigallia, Rimini, Padova, Milano, insomma tutto il territorio nazionale, ecco perché appunto nella cronaca nazionale si ritrovano i richiami a questa vicenda di cronaca e poi in basso Massimo Foghetti ha sentito che ha avuto a che fare con lui, i giudizi, insomma restano luci e ombre per le imprese avviate in città, ricordo di Cecchini buono per il Carnevale e quello ugualmente buono di Aguzzi per l'affanno dei Cesimi, Ceseri pessimo invece quello di Cattiamati per quanto riguarda il suo rapporto con il teatro. Parliamo per quanto riguarda ancora una volta gli espropi e guardiamo a Tombaccia la protesta arriva in Consiglio si è ritrattenuto dai comitati senza oneri è possibile qualche variante ma non sostanziale questo è il virgolettato del primo cittadino e poi l'assessore Cecchetelli tenta di mitigare un po' le reazioni sulla festa del parco annullata perché dice si tratta di una reazione esagerata il tutto poi finirà il 31 agosto anche se la delibera prevede che il termine possa prolungarsi l'assessore Cecchetelli sulla decisione adottata dall'associazione Bartolagi dice una posizione ideologica che rispetto ma non condivido e anche Senigallia è unita a Fano da questa vicenda degli espropri però in una fase completamente diversa perché se da noi si devono ancora avviare proprio le procedure materiali di esproprio lì a Senigallia sono già avvenute avvenute quando nel 2008 però c'è qualcuno che non ha visto ancora un euro è Franco Barucca che aspetta l'indenizzo dal 2008 società autostrade però spiega l'iter e quindi uniti da questa vicenda e poi sport, rally dell'Adriatico, passerella in centro esposizione dalle ore 18 di oggi poi la partenza ecco anche qui tutti i divieti e le zone off limits per questo avvenimento sportivo che infiammerà sicuramente l'animo degli appassionati andiamo nella pagina di Pesaro per quanto riguarda il Corriere Adriatico si parla di un altro crack della Confart per cui sarà indagato anche l'intero consiglio di amministrazione un buco da 18 milioni di euro conclusa l'indagine stralciata solo la posizione di Marco Casicci e questa era l'apertura del Corriere Adriatico di Pesaro e poi andiamo a Fossombrone per Chris un volo di palloncini bianchi e funerali per il piccolo che è morto tragicamente nell'incidente sulla superstrada e folla ai funerali del piccolo i paroci dicono ora ci guarda da lassù e solo lui potrà consolare il dolore di chi lo ama veramente grande folla come vedete nelle foto assiepati davanti alla chiesa dove si è celebrato il rito funebre cambiamo testata andiamo al resto del Carlino anche qui in centro pagina fotonotizia l'arresto dell'imprenditore fanese Stefano Cordella arrestato per bancarotta fraudolenta distratti 6 milioni di euro e poi in testa di pagina si parla del cartellone estivo che riguarda Pesaro con frecce di colori tramonti al mare, rock, la notte rosa e ritorno le candele in spiaggia per 5 giorni anche qui ripercorsa un po' tutta la storia di questo imprenditore le strategie da piccolo re dice la sua scrivania negli uffici di Via Nolfi a Fano era mezzo metro più in alto dell'interlocutore di turno che era colloquio con lui apro un negozio in piazza San Marco e dopo porterò l'alma in serie A questo è l'ultimo dialogo da libero dell'uomo che voleva abbagliare il prossimo il suo nemico delle scritte il mio calugnatore è stato individuato e l'ho anche denunciato era un mio dipendente e gli ho chiesto pure un risarcimento tra qualche giorno ufficializzeremo il passaggio di una agenzia stampa sotto il controllo cioè ADN Cronos continuiamo nelle pagine del resto del Carlino che tratta di una questione che riguarda Viale Marconi per una doppia pista ciclabile che deve essere realizzata in questa strada e un ex consigliere di quartiere esprime appunto il suo parere dice sono troppe e anche nemmeno a norma consiglierei di farne solo una meglio imporre unica corsia di marcia senza limitare i marciapiedi ancora nel resto del Carlino però cambiamo pagina andiamo in quella di Fano che sta vivendo una giornata insomma vivrà una giornata di grande sport con tante persone che arriveranno in occasione di questo torneo di rugby hotel assaltati da circa 700 atleti e Fano diventa la capitale del rugby campionati studenteschi da oggi fino a sabato per ben 46 squadre provenienti da 14 regioni il Carlino nella pagina di Fano affronta anch'esso la vicenda degli espropri e vediamo come titolo espropri si chiede aiuto anche al vescovo qui vedete Don Marco Polverari che parla alla commissione lavori pubblici e sulla sinistra Stefano Aguzzi il prete ai politici dice fratelli questi non sono piccoli disagi ma grandi disastri Don Marco ha incontrato la commissione lavori pubblici e il clima si è riscaldato l'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Carlino per Fano riguarda una confisca una casa confiscata alla mafia protesta dei condomini i residenti di una palazzia di Sant'Orso temono che l'uso che voglia farne il comune non sia insomma in linea con le loro aspettative arriveranno solo mamme e bambini ma la cosa allarma lo stesso rischio di turbativa non si poteva pensare ad un diverso utilizzo nei limiti regolari della legge questa era la considerazione e andiamo con il messaggero l'ultima testata che vi propongo per oggi anche qui insomma in fotonotizia grande evidenza l'arresto di Stefano Cordella e poi si parla anche della bella estate si insomma evidenziano i 300 eventi che insomma saranno presentati a Pesaro durante tutta l'estate tornano la notte rosa le candele di San Lorenzo e anche il sole assicurato che prova a fare il bis rimborso in caso di tre giorni di pioggia consecutivi in Carpegna arrivano i migranti e il sindaco convoca l'assemblea fissata per questa sera vogliamo tranquillizzare i residenti e anche qui la battaglia contro gli espropri vedete Don Marco e questi qui sono gli eventi snocciolati qui nella pagina del messaggero di Pesaro tutti e 300 per la bella estate ma la vera festa a sorpresa sarà legata a Baia Flaminia e alla particolarità del tramonto nei giorni del solstizio e dicevo dicevo che appunto Ricci e la sua giunta tentano il bis sul sole assicurato che ha fatto tanto parlare l'anno scorso quando fu presentato assicurare il sole se fosse possibile con tre giorni di pioggia consecutiva rimborseremo un weekend in albergo ma speriamo che non sia necessario questo l'augurio del sindaco di Ricci e poi nelle pagine del messaggero si parla anche di acqua e naturalmente di costi di bollette di tariffe 75 milioni di investimenti però le tariffe vengono ritoccate la Ato presenta il piano di potenzionamento della rete idrica l'ultima pagina è quella che riguarda Fano del messaggero anche qui il titolo è self-made man fa crack arrestato Stefano Cordella l'ex vicepresidente del Fano Calcio voleva aprire una profumeria a Venezia in piazza San Marco l'operazione della finanza denominata appunto ultima spiaggia ha portato a 16 denunce e la perquisizione di 20 società tra Milano Padova e Senigallia anche qui confronto in municipio bollente per gli espropi e poi Rincicotti e Orciani si prepara l'esposto a portarlo in comune saranno i 5 stelle in consiglio saranno i 5 stelle che preparano la denuncia alla magistratura è la Corte dei Conti e poi vi segnalo una bella iniziativa in chiusura di rassegna stampa fuori classe seconda serata tutti al Teatro della Fortuna per i saggi degli studenti insomma una bella pagina e un bel momento per tutti sia per loro che hanno profuso tanto impegno per fare gli spettacoli anche per genitori e insegnanti bene questa era l'ultima notizia grazie per essere stati con noi naturalmente vi ricordo sempre le nostre pagine web il nostro sito e la pagina Facebook per restare sempre aggiornati in tempo reale e poi questa sera occhio alla notizia alle 20 e 30 un saluto anche a quelli che ci seguono in replica grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti